Con anche la musica fatta da me Questo è il terzo pack opening Mi vedete col cappuccio perchè siamo in guerra Due pack opening non ho trovato niente Come al solito Però questo è quello buono Signori, oggi state vedendo il video dove troverò Ronaldo in forma Gufana, clamorosa Bentornati un'altra volta nella demo Nella demo, si Nel gioco completo di FIFA 16 Andremo ancora oggi a fare un pack opening Andremo ad aprire una decina Decina di pacchetti Dobbiamo sperare, dobbiamo trovare qualcosa Dai, partiamo subito Ah, no, non partiamo Perché se volete altri pack opening Non so quando però più presto possibile Dovete mettere mi piace questo video Vai, ve lo chiedo ancora Io mi sto impegnando tantissimo a portarvi già dei pack opening Ho speso un casino in FIFA points Quindi dai, vedete un bel mi piace Cerchiamo di fare altri pack opening Perchè io prima o poi devo trovare qualcosa Ah, no, giusto, è questo video dove troverò qualcosa Quindi voi mettete qua sotto un bel like Pronti Subito con Messi Messi che ci farà trovare Ronaldo, direi No, Messi che ci fa trovare Montero Montero Va bene A bella A bella, a bella Non questa bustina Non è una a bella bustina E come sempre con tristezza e nel cuore teniamo tutto A la ba A la ba A la ba Fammi trovare una cosa No, no, no Mi fa trovare Rafinha Ma che merda Peria Petric No No Non voglio inviare gli oggetti Voglio trovare qualcosa Non fammi trovare qualcosa che non sia mille crediti Per favore Adesso signori Is back Perchè hanno dato un presento al contrario E' tornato Pikachu Prossimo pacchetto Portami fortuna Pikachu Già la nazionalità dice tutto Jujak Jones Lombaires Merda Schifo E' caduto Pikachu Comunque mi faccio un bel po' di crediti mi sa So So vedete Sto trovando gli oggettori che comunque valgono Quasi tutti sui due No, non lui Però valgono sui duemila circa Quindi un po' di crediti li faccio Quattro Quattro Quarto Pacchetto Niente Niente Vogt Vogt Luis Carlos Perchè Luis Carlos Perchè nelle palle Perchè E' Matteo Sagasta Mi giro Parta fruttura Gerasi Vai di spalle Di spalle Guarda la nostra Pikachu Di spalle Di spalle Di spalle Di spalle Di spalle Dovrebbe aver fatto eh Toggo Pikachu Boom Sapete cos'è? E' che Si sapeva I pacchetti sono Tarocchi Guardate Dice BLE Esattamente come il pacchetto Una merda Non schifo Perchè l'argento? Perchè la maia del Sudafrica e del Sassuole? Perchè il doppione di Ilmaz? Vi ho promesso Ronaldo Avrete Ronaldo In questo pacchetto Perchè? Quando dico questo dico questo In questo pacchetto C'è Marcello Quindi ci stiamo avvicinando La squadra C'è C'è niente Dirar Far Far Come si pronuncia? E ancora Baruzzi Lo trovo sempre Baruzzi Burakimaz E Ignacevic Loro sempre I Turraspe Sto provando odio Odio Verso FIFA Verso tutto Oh Fammi trovare qualcosa Hai capito? C'è Si può essere così sfigati? Salto 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 E cosa trovo? Niente Ma dai Ma dai C'è Dai 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 Io avrò promesso Ronaldo Devo trovarlo Fallo 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 Lo so che ci sei Lo so che sei qui Lo so che sei qui Olson T'ho trovato finalmente Bastardo Moisander Un bronzo E Gli ho visti Gli ho visti Gli ho visti Non sono da soli stavolta Sono due Sono due Sono due Quanti ne ho trovati? In Treppio Coppening Ho fatto tutti i miei crediti là Tutti i mille Ma com'è possibile? Ultimo pacchetto Segno della croce E si va E si va E si va E si va Far schifo ancora No voglio vederlo Voglio vederlo Il pacchetto finale Che mi fa trovare Pikachu The friend Derigo sputato Io ve lo dico adesso Voi mettete mi piace Per Perché sono ferito nell'animo Voi mettetelo Se volete Triple Coppening E se il video ti è piaciuto Metti mi piace Iscriviti al mio canale E commenta E da BOMF777 È tutto Ciao a tutti Mille crediti ancora E se volete Scriviti al mio canale